Atenzione, partita la gara, partita la gara che vede Junior e allievi in partenza, tutti sono ovviamente in superiva categoria Un'obietta, ciò che si mua Sì, un'obietta, ciò che si mua La zona sport, ciò che si mua E' la cosa che si mua Sì, il nostro corso L'armamento del Syracco Sì, il nostro corso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.